Nia non perderà tempo e, dopo essere stata liberata, deciderà di affrontare Enir. Ecco cosa accadrà nella puntata di stasera di Endless Love e cosa suo marito sarà costretto ad ammettere. Ci aspetta una nuova puntata di Endless Love. Dopo l'appuntamento pomeridiano di oggi, di cui vi abbiamo parlato più approfonditamente in questo articolo, andrà in onda un'altra puntata anche in prima serata. Come i telespettatori sanno, Nihann è stata rapita ed è iniziata la corsa contro il tempo di Kemal e Demir per salvare la donna che amano. Possiamo svelarvi che, nella puntata di questo pomeriggio, Kemal e Demir non riusciranno ancora a salvarla, ma fortunatamente stasera ci sarà uno sviluppo cruciale. Alla ricerca della donna si uniranno anche altri due uomini. Due uomini che adorano Nihann e che farebbero di tutto per salvarla. Stasera a Endless Love, Emir conferma i sospetti di Nihann. I due uomini in questione sono Onder e Ozan, il padre e il fratello di Nihann. Dopo aver chiesto informazioni ad Emir, che non rivelerà nulla, Onder si rivolgerà a Kemal. Fortunatamente, Kemal gli dirà la verità sul rapimento di Nihann. Questa rivelazione unirà padre e figlio nella loro ricerca. Per fortuna, alla fine Kemal, Emir, Onder e Ozan troveranno e porteranno in salvo la ragazza. Nonostante sia stata appena salvata, Nihann non si arrende. Ha bisogno di capire perché è stata rapita e se c'è un collegamento con la morte di Karen. Affronterà suo marito, Emir, chiedendogli di sapere se è stato lui ad uccidere Karen. Emir ammetterà quasi tutto, dicendo a Nihann che non è stato lui ad uccidere Karen, ma uno dei suoi uomini. Naturalmente, Nihann è sconvolta dalla rivelazione e non sa cosa fare di questa informazione. Sarà vero? E dovrebbe dirlo a Kemal? Nel frattempo, Asu continua a inseguire Kemal, decidendo di ignorare il consiglio di suo zio Hakki di aspettare. In un altro colpo di scena, Vildan scopre che Galip l'ha ingannata ed è lui il solo proprietario della casa di Leila. Infine, Leila decide di prendere in mano la società, facendo valere i suoi diritti di socia.